Beh dai, Piero, non fare così! Ma quelle sentite quelle là! E tu lo sai che a quelli non sono dormanti! Eh lo so che non sono dormanti, lo sai che me ne ho detto? Che ti hanno detto? Che sono una persona immatura! E tu come hai reagito? Gne, 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 gne! Vabbè, dai, così mi sento male! E dimmi, Piero, cosa posso fare per tranquillizzarti? Per tranquillizzarmi? Beh, abbà, rimani così? Rimani così che sei bella, bella questo panorama, bella, rimani così ancora, carezzi lì, ma sto proprio bene, mi sento bene, rispondo, sei bella!